Ma quindi l'SP500 è destinato a rompere tutti i massimi e a continuare con questo fortissimo impulso rialzista? Secondo la mia esperienza ci sono due probabilità a favore e una contraria. Vediamoli insieme. Questo è il grafico dell'SP500 daily e innanzitutto possiamo benissimo notare come questo fortissimo impulso rialzista sia andato a sancire definitivamente la chiusura di questa fase ribassista. Infatti un solo impulso ha rotto tre massimi e si sta avvicinando anche a questo bellissimo massimo relativo. Non è detto anche che non estenda fino ad arrivare a fare magari un doppio massimo. Ora però ci si sta interrogando se questa potrebbe essere l'inizio di una nuova fase anche prolungata rialzista oppure se questo potrebbe essere solamente un ritracciamento per poi ritrovare nuovi minimi. Ora vediamo insieme che cosa ci dice la statistica. Se noi andiamo a suddividere questo impulso in quattro porzioni uguali, detti quartili, sempre ipotizzando che questa sia la fine di questa fase impulsiva rialzista, noi possiamo andare a disegnare la classica campana di distribuzione gaussiana per capire che cosa ci dice la statistica. Allora andiamo a disegnare, considerato che questo è il 100%, questo è ovviamente lo 0, andando a disegnare la distribuzione gaussiana cosa troveremo? Troveremo ovviamente una distribuzione massima dei risultati possibili del ritracciamento nella zona centrale. D'ora in poi sarà interessante ed importante andare a controllare il ritracciamento, quale forza avrà, fin dove si spingerà, perché questo ci fornirà una rilevanza statistica inerente la forza del titolo stesso. E questo è un concetto statistico-matematico che può essere applicato a qualunque grafico, sia esso una azione così come un indice in questo caso. E noi possiamo anche già da subito sapere andare a scrivere questi valori di forza. Se infatti invertirà nel primo 25%, sicuramente sarà un sintomo di grande forza del titolo. Sarà leggermente meno se inverterà nella seconda parte e sarà invece, chiamiamolo più o meno, diciamo una fase di maggior indecisione se il ritracciamento dovesse estendersi fino all'ultimo quartile, all'ultimo quarto di suddivisione. Andiamo anche a disegnarlo. Come detto, se dovesse invertire in questa zona, che è una zona statisticamente conosciuta e molto ben delineata, allora questa inversione sicuramente andrà a generare nuovi massimi, perché tutte le azioni che invertono così in fretta nel primo quarto sono quelle classiche azioni che poi generano degli swing molto piccoli al rialzo. Quindi un moto rialzista molto forte con un grande momentum e un basso drawdown, una bassa oscillazione. Al contrario, se invece il movimento dovesse estendersi fino alla parte centrale, anche se lo dovesse ritoccare, ovvero estendersi leggermente al di sotto del 50%, magari andando anche ad intercettare questa che è la media a 200 periodi, quindi ipotizziamo che si dovessero incrociare più o meno su questo livello, cosa che succede tante tante volte, anche in questo caso una inversione su questo livello porterebbe quasi sicuramente a rivedere nuovi massimi. L'ultimo scenario invece, che andiamo a disegnare in rosso, se dovesse estendersi fino all'ultimo quarto, allora in questo caso si farebbe decisamente più strada quella di un ritorno, magari un rimbalzo temporaneo al di sopra delle medie per poi riprendere la fase invece di impulso ribassista. Bene, così abbiamo fornito una chiave di lettura chiara, non aleatoria e con una valenza statistica di quello che potrebbe fare l'indice SP500 nelle prossime settimane. Non ci rimane altro che tenere monitorati questi livelli e vedere come si comporterà il mercato e come sempre noi non anticipiamo il mercato ma lo seguiamo. Se ti è piaciuto questo video metti un like, lascia un commento e ci vediamo al prossimo video sul circolo degli investitori.